chi oggi secondo te si sente un po buonaparte oddio sono tutte comparse ho detto si sente non ho detto chi è che ne so berlusconi si sente buonaparte per ragioni di altezza anche di pancetta forse un tempo anche per questioni di donne ma no 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 secondo me devo dire che la cosa più bella del suo libro si può definire un buongabunghista no no sì assolutamente perché aveva tanti amanti però nella nella anche ma la povera maria valesca viene presa come una preda di guerra e poi dopo diventa per esempio durante l'esilio a capoliveri all'elba si racconta questo episodio di capoliveri che scoppia una rivolta contro le tasse perché dovete sapere che buonaparte è stato il primo che ha inventato l'imu perché quando arrivò all'elba disse i proprietari di casa paghino le tasse se vogliono la pulizia delle case e ovviamente in uno dei comuni dell'elba che ancora oggi sono divisissimi sono dobbiamo ricordare anche che il bicentenario no ecco il bicentenario all'isola d'elba è una piccola expo non nel senso della corruzione per fortuna no assolutamente ma nel senso che si celebra un evento molto importante così e tutti i comuni sono lì che litigano sono divisi ma comunque speriamo che ce la facciano e allora capoliveri insorse e per placare la rivolta i vecchi elbani e gli storici dell'isola raccontano che a napoleone venne offerta la bella farmacista di capoliveri